Lorenzo, una puntata ricchissima, come sempre apriamo con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni, ma al rientro ci sarà l'amica Barbara Passerini che si collegherà con Simone Zappacosta. Bentornati all'oroscopo musicale, buon venerdì. Vado subito a conoscere l'artista di oggi, perché a novembre sotto il segno dello scorpione nasceva un attore. Un attore non bello, bellissimo no, di più, ultra bello. Pensate, attore e regista cinematografico, nel 1935 nasceva lui, Alain Delon, figlio di Fabien Delon, direttore di un piccolo cinema di quartiere e la mamma una giovane commessa di farmacia. Suo bisnonno paterno, Fabien Delon, fu decorato con la legion d'onore nel 1892, mentre sua nonna, Mary Antonietta Evangelista, sposò Jean-Marcel Delon, un esattore di prunelli di Fiumorbo. La leggenda familiare vuole gli evangelista imparentati con i Bonaparte. Nel 1939, quando Alain Delon ha appena 4 anni, i genitori si divorziano e il papà scompare per parecchi anni. Nonostante il grande amore per suo figlio, la mamma purtroppo è costretta ad affidare Alain Delon ad una famiglia. A 8 anni, non potendo più restare con la famiglia adottiva e non potendo tornare dalla mamma, vive nel collegio di Suore, dove incontrerà uno dei suoi più cari amici, Gérard Salomé, con cui trascorrerà tutta la sua gioventù. A causa del suo carattere perennemente ribelle, dovuto per sua stessa ammissione al trauma subito dalla separazione di genitori, ottiene brutti voti a scuola e per questo motivo è costretto a cambiare diversi istituti. All'età di 14 anni lascia la scuola e sua madre, risposatasi con un maestro salumiere, lo indirizza come apprendista salumiere nella macelleria del patrigno, in cui Alain si trova subito a suo agio, diventando in breve uno dei dipendenti più profigui. All'età di 17 anni, il suo obiettivo era diventare maestro salumiere e prendere il posto del patrigno, però decide di arruolarsi nella marina francese e dopo cinque anni viene congedato, dopo aver totalizzato 11 mesi di prigione per indisciplina. Tornato in Francia nel 1956, Delon deve affrontare una situazione di ristrettezza economica, svolgendo i lavori più disperati come il facchino, commesso, cameriere, nei quartieri malfamati dalla Francia. Grazie alla passione per la giovane attrice Brigitte Aubert, si allontana da questo mondo e fa la conoscenza dell'attore Jean-Claude, che lo invita al Festival di Cannes, dove la sua bellezza candida e allo stesso tempo glaciale non passa inosservata. Si trasferisce a Roma, dove condividi l'appartamento con Jean-Paul Barbieri, che diventerà un famoso fotografo e gli viene proposto un contratto che lo potrebbe portare a Hollywood a patto di imparare l'inglese. Fu comunque consacrato come il più grande attore del momento e anche come l'uomo più bello del mondo. Successivamente torna in Francia per affermare anche nella sua patria la sua grande popolarità. Alain Delon purtroppo ha sofferto tutta la sua vita per l'abbandono della sua famiglia e a sua volta ha abbandonato anche lui, le sue donne e i suoi tanti amici. Tanta bellezza, tanto successo, ma anche tanta tristezza. Questo ci fa capire che la cosa più importante è la serenità, la serenità che ognuno di noi dobbiamo crearci dentro di noi, giorno per giorno. Nel 1973, assieme a Dalida, incide anche un brano cantato, Paroles Paroles, una versione in francese della notissima canzone Parole Parole, lanciata da Alberto Lupo e Mina. Parolesydro E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto in tantissimi lunedì e per il momento vi auguro un buon fine settimana, ciao!